La caserma diventa proprietà del comune di Fano. Allora diciamo bene, questa palazzina che fronteggia Viale e Gramsci è di proprietà del comune di Fano. Come intende utilizzarla e quali saranno poi i procedimenti che dovrà utilizzarla? Da venerdì 24 maggio la palazzina a comando è del comune di Fano, finalmente. Abbiamo intenzione già da domani di metterci a tavolino come d'accordi con l'Agenzia del Demanio per pensare a una progettazione di tutta l'area insieme a loro. Ci hanno già detto che si faranno carico della progettazione loro, lo faranno con interlocuzioni con diversi altri soggetti istituzionali per rifunzionalizzare tutta l'area della caserma Polini. La palazzina a comando verrà adibita a ospitare degli uffici del comune? Esattamente, verrà adibita a funzioni istituzionali perché è questo che la legge del trasferimento gratuito dello Stato che abbiamo utilizzato ci chiede. Verranno utilizzati gli uffici sia per spostare la caserma dei vigili della Polizia Locale di Fano che come sapete deve essere spostata da lì perché c'è un altro progetto, quello della Federiciana, in corso e poi verranno spostati gli uffici tecnici così da essere accorpati e più facilmente raggiungibili dalla cittadinanza e poi nel piano sottotetto andremo comunque a realizzarsi uno spazio espositivo di mille metri quadrati che sarà utilizzabile sia come spazio espositivo ma anche come spazio da restituire ad altre funzioni. Il parcheggio della caserma Paolini è prezioso per tutti i fanesi e in modo particolare per il centro storico. Rimarrà così? Assolutamente sì, non verrà tolto né un parcheggio né un albero per cui i parcheggi rimarranno liberi, gratuiti per tutti i cittadini. Avvieremo con il tempo necessario sicuramente la progettazione anche di un parcheggio multipiano sotterraneo se ci saranno le condizioni come sembrano esserci perché così triplicheremo la possibilità di parcheggiare in un'area adiacente al centro storico che diventa veramente strategica sia per i residenti sia per chi a Fanno vuole venire, la vuole visitare.